Settembre da record per le strutture ricettive alberghiere del territorio, indice di occupazione superiore a quello del 2019, Alghero, Traina e il Nord-Ovest, boom degli stranieri. Il Comitato dei Pescatori Cigarelu continua la protesta per lo stop dell'area di Porto Conte dopo aver incontrato i vertici dell'ente, appello anche all'amministrazione comunale. Ripartono le attività dell'Università delle Treta di Alghero nei prossimi giorni al via il 31esimo anno accademico, intervista alla Presidente Marisa Castellini. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di CatalanTV e un settembre da record. Come avete visto e sentito nei titoli è il mese che chiude la stagione delle rilevazioni relative alle occupazioni camere letti nelle strutture alberghiere iscritte alle associazioni di categoria Federalberghi Confcommercio, visto che nel mese di ottobre molte di queste lavorano per una frazione di mese. E i dati sono più che positivi, soprattutto ad Alghero. Questa volta il Centro Studi di Via Pasco di Assassari ha campionato 4.120 posti letto giornalieri, quindi 123.600 mensili, grazie al consueto ampio campione di alberghi che hanno partecipato alla rilevazione. Dall'analisi si evince che 8.508 sono stati gli arrivi dal mercato Italia e 15.342 da mercato internazionale, 23.754 le presenze italiane, con un soggiorno medio di 2,79 giorni e 51.799 straniere, soggiorno medio 3,37 giorni. L'indice di riempimento camere per l'interarea provinciale è stato pari all'82,51% del totale rispetto al 76,30% dello stesso dato del 2019, una crescita di oltre 6 punti percentuali che conferma l'ultimo trend stagionale anche nel suo mese conclusivo. Su Alghero l'indice di riempimento è sopra media, e traina il dato anche su base provinciale, fermando l'asticella a un soddisfacente 85,86% contro l'82,21% del 2019. Molto bene anche il resto dell'area provinciale, che passa dal 66,95% del 2019 al 72,85% del 2022 e che guadagna quasi 6 punti di crescita occupazionale. Un rimbalzo significativo e per certi versi imprevisto, commenta il presidente provinciale di Federalberghi Commercio, Stefano Visconti, che ci riporta migliorandoli significativamente all'indice occupazionale del 2019, dopo due anni difficilissimi dai quali è ancora difficile riprendersi. Effettivamente anche nella percezione dei non addetti ai lavori, opinione diffusa e quella che racconta di località turistiche, di nuovo animate dal fenomeno turistico, con tante persone in spiaggia, nei centri abitati, con i benefici correlati ed evidentemente anche con gli effetti collaterali meno gradevoli che tanta massa può generare. Ascoltando l'esperienza dei nostri ospiti, che raccontano la loro vacanza e a volte esprimono nero su bianco, nelle loro recensioni, aggiunge Visconti, emergono dei punti critici sui quali è bene lavorare, tanto sullo stato generale delle strutture ricettive, in alcuni casi emerge un indice di vetustadi fabbricati, dei loro contenuti eccessivo, quanto sullo stato di decoro delle località turistiche, soprattutto nel mese di agosto. Quest'ultimo rilievo è facile da capire, visto che l'aumentata pressione antropica, eccessivamente concentrata in quel mese, rende difficoltose le operazioni di pulizia di tutti i centri turistici della provincia. Relativamente al primo, in assenza di strumento urbanistico, che permetta di adeguare gli involucri esistenti alle rinnovate richieste di mercato, soprattutto nella fascia dei 300 metri dal mare, sarà difficile che gli imprenditori possano rendere sostenibili i propri investimenti in migliorie, aggiunge Visconti. Infine, conclude il presidente della Federal Berge Commercio, una nota sull'aeroporto del territorio, Rivera del Corallo. Dopo anni difficili, caratterizzati dal flagello Covid, per effetto dei quali non sono state possibili crescite, quest'anno anche la società di gestione aeroportuale, è riuscita a inanellare successi, mese su mese, che hanno portato a una crescita rilevante degli arrivi, con il ritorno prepotente del mercato internazionale, crescita di cui hanno beneficiato tutte le attività produttive, crescita che andrà sostenuta anche dal mondo economico e produttivo attraverso meccanismi che sono allo studio, perché un aeroporto forte rende forte il suo territorio. Dopo il successo di Archeologica con oltre 10.000 visitatori, il turismo sarà ancora protagonista a Cagliari con Tourism Experience Management Sardinia 2022, ovvero la fiera del turismo esperenziale. Questa prima edizione tratterà i temi del turismo enogastronomico, attivo e sportivo, archeologico, religioso e tradizioni popolari. Grazie alle bellezze e alle caratteristiche dell'isola si può completare l'offerta turistica, contribuendo ad allungare la stagione, a promuovere e valorizzare l'interno della Sardegna, troppo spesso trascurato dai flussi turistici, ha detto l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa, questo durante la presentazione dell'evento organizzato dall'assessorato insieme a Insula, che si tratta della divisione agrifood e marketing territoriale del Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est Sardegna, che si terrà dal 28 al 30 di ottobre nella passeggiata coperta del bastione San Remy, ovviamente nel capoluogo Sardo. Un appuntamento di rilevanza nazionale e internazionale, che oltre ad un ricco programma di convegni, incontri, tour ed eventi, consentirà l'incontro tra domande e offerta, con la presenza di 55 operatori sardi e 40 buyer internazionali. Sentiamo proprio le parole dell'assessore regionale del turismo Chessa. La fiera del turismo esperienziare, con quattro temi, vuole allungare la stagione, portare quel concetto di destagionalizzazione, quel sogno che potremmo accarezzare di un'isola che viva tutto l'anno. Ecco, questo è un appuntamento, la fiera del turismo esperienziare, è un appuntamento dove noi crediamo di rilanciare una Sardegna diversa. Ci saranno presenti oltre 50-55 operatori turistici tutta la Sardegna, ma l'acqua più importante è che ci saranno 40 buyer da tutto il mondo, di cui quattro vengono dall'America, un confronto dove noi vogliamo fortemente rilanciare l'interno della Sardegna. Puntiamo su temi quale l'enogastromia, in quanto abbiamo sempre detto che la Sardegna fa parte dei 5 bruzon al mondo, quindi è buon mangiare, è buon vivere. Puntiamo sul turismo archeologico, che stiamo veramente fortemente rilanciando, sui cammini religiosi, ma soprattutto gli eventi identitari, quindi un rilancio dei piccoli comuni e non solo. Il quarto tema, che molti già conoscono, è il turismo sportivo, il turismo attivo, l'isola dello sport, avete visto quanti eventi internazionali. Ecco, questi quattro temi serviranno a portare presenze nei mesi di spalla, perché il clima della Sardegna lo permette, le bellezze naturali, come dico sempre, la Sardegna promuove unicità e non competizione. E questa è una possibilità di promuovere unicità. Questo pomeriggio, al quale torna a riunirsi il Consiglio Comunale, una ventina, i punti all'ordine del giorno, diverse le interrogazioni e le emozioni, presentate sia da consiglieri di maggioranza che di opposizione. Spicca all'ordine del giorno, che vede il primo firmatario, il consigliere dell'Udc, Cristian Mulas, ma sottoscritto da tutti i capigruppo per l'istituzione delle garante per i diritti dei detenuti, con il quale si chiede di attivare un percorso di verifiche giuridiche e amministrative, coinvolgendo, se necessario, anche l'amministrazione penitenziaria per giungere all'istituzione dell'importante figura predisporre una proposta al Consiglio Comunale di regolamento del garante stesso per i diritti dei detenuti del Comune di Alghero. Attraverso la sua istituzione, si legge nell'ordine del giorno, il Comune intende dare forma e sostanza al rapporto tra il carcere e la città per evitare a tutte le persone che vivono in carcere una marginalità ancora più profonda di quanto già non comporti la propria condizione. Chiedono udienza all'amministrazione comunale, i pescatori delle cinque unità che fanno parte del Comitato Cigarello e che dallo scorso 18 ottobre, ricorderete, lo abbiamo proposto anche come servizio nel nostro Tg dell'edizione di quel giorno, si sono stabiliti in un sit-in fuori da Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte e dell'area marina protetta, di Capocaccia Isola Piana. Il messaggio è chiaro, senza la pesca, danno economico per loro e i propri familiari. Continua il sit-in pacifico dei pescatori riuniti nel Comitato Cigarello che nella giornata del 18 ottobre si sono stabiliti sotto un gazebo posizionato a lato dell'ingresso di Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte e dell'area marina protetta di Capocaccia Isola Piana. Protestano per la chiusura della piccola pesca attuata dalla direzione del Parco, si legge, è che a detta dei pescatori sta creando loro e alle loro famiglie tanti disagi, in primis quello economico. E dopo aver ricevuto diverse persone, incontrato anche la direzione dell'area marina protetta, il presidente del Consiglio regionale, Michele Paes, è anche la nostra emittente che ha realizzato l'intervista con uno dei rappresentanti del Comitato proprio nel giorno iniziale del sit-in. Lo stesso prosegue nella richiesta e questa volta si rivolge all'amministrazione comunale chiedendo udienza in riferimento proprio alla chiusura della pesca professionale. Nella nota a firma del Comitato viene spiegato come le cinque unità della piccola pesca da 40 anni operanti all'interno dell'area di Porto Conte in un momento di recessione come questo si trovano di punto in bianco senza lavoro. La richiesta in coro all'amministrazione è da parte dei familiari nel chiedere la riapertura della pesca le cinque licenze regolarmente iscritte nel comparto della piccola pesca. Signore amministratori, si legge nel documento a firma del Comitato Cigarello vogliamo ricordarvi che Alguero con la sua identità per secoli ha mantenuto alta la sua immagine anche in riferimento al detto Riviera del Corallo ed oggi a casa nostra ci troviamo chi non vuole ascoltare le nostre problematiche. Per questo motivo abbiamo dovuto fare intervenire gli organi di stampa ai quali consegniamo anche questa missiva affinché arrivi a voi amministratori chiudono dal Comitato Cigarello. Chiudiamo la prima parte del TG parlando di un brutto episodio avvenuto a Sassari durante e dopo l'incontro di calcio tra Academy Latte Dolce e Alguero della categoria allievi. Il giovane arbitro è stato preso di mira con insulti e minacce in particolare dal padre di un ragazzino che gioca nel Latte Dolce. A finire nel mirino però anche Emanuele Fresi presidente dell'associazione arbitri di Sassari che ha scattato alcune foto al padre minaccioso il quale dopo essersene accorto ha preso per il bavero della giacca lo stesso Fresi e lo ha spintonato continuando inoltre a minacciarlo. Non è finita qui perché poi il presidente degli arbitri è stato raggiunto nei parcheggi e ha cerchiato da alcune persone. Inevitabile la denuncia da parte dello stesso Fresi ma la notizia ieri rimbalzata anche qui in città con l'Alguero che ha voluto chiarire in una nota che nessuna delle persone coinvolte nelle minacce rivolte all'arbitro e all'aggressione del presidente della sezione Aia di Sassari ha a che fare con la società giallorossa. Nessuno dei nostri tesserati né tanto meno genitori si è reso protagonista della vicenda descritta si legge ci dichiariamo quindi in maniera ferma e convinta totalmente estranei fatti condannando l'accaduto che rappresenta quanto di più lontano dei valori etici e sportivi della nostra società ha voluto far sapere in Alghero Calcio ed ora ci fermiamoci la pubblicità a tra poco. Ritorniamo in studio a distanza di circa 20 anni lo scorso 21 di ottobre il direttore maritimo della Sardegna settentrionale comandante del porto di Olbia il capitano di vascello Giorgio Castronuovo ha visitato l'ufficio circondariale maritimo di Alghero teatro della sua prima esperienza di comando la visita ha rappresentato un momento significativo in cui il direttore marittimo nel ricordare con crescente emozione il periodo trascorso presso la rivera del Corallo ha espresso la propria vicinanza al personale schierato per l'occasione manifestando vivo apprezzamento per il costante impegno profuso dalle donne e dagli uomini della guardia costiera algherese nelle attività operative in mare e a terra e per l'espletamento di tutte le attività amministrative a favore degli utenti del mare di seguito insieme al comandante dell'ufficio circondariale maritimo di Alghero il tenente di vascello Giuseppe Tomai il direttore marittimo ha incontrato il sindaco di Alghero Mario Conoci quest'ultimo ha espresso parole di soddisfazione per la collaborazione istituzionale fra autorità marittima e amministrazione locale testimonianza di una consolidata e proficua sinergia tesa nel prossimo futuro all'accrescimento degli standard di sicurezza e di friabilità del porto attraverso interventi infrastrutturali e di efficientamento e martedì 8 novembre ci sarà la cerimonia di apertura del nuovo anno accademico dell'Università per le tre età di Alghero a parlarne come sempre la storica presidente dell'Utela professoressa Marisa Castellini professoressa Castellini si può dire che finalmente rinizierà un anno accademico all'Università per le tre età di Alghero che in linea con le altre università delle tre età ma anche con le università normali le possiamo definire apre a novembre quando apre l'Università delle tre età quando ricomincerà queste attività tanto richieste allora intanto buongiorno a tutti grazie a Catalan TV per l'ospitalità e a coloro che ci sostengono si parte si parte con grande entusiasmo con grandi motivazioni ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico il 31esimo lo dico con grande orgoglio perché significa si parla e significa di ricordare 31 anni di straordinarie attività a favore della nostra collettività quindi una pagina della storia di Alghero si inaugura l'8 martedì 8 novembre alle 16.30 alla presenza ci ha dato la sua disponibilità Sua Eccellenza il Vescovo le autorità ovviamente che saranno coinvolte per i saluti iniziali si apre all'insegna di un anno con una programmazione nuova straordinaria coinvolgente che risponderà alle esigenze dei nostri iscritti coloro che da 31 anni ci seguono e i nuovi che stanno con entusiasmo accogliendo la proposta di partecipazione a questa nostra organizzazione Siamo stanchi di dirlo però alla fine bisogna ripartire e quindi che cosa vogliamo dire a quegli iscritti che magari ancora ti tubano un po' per fare lezioni in presenza dopo questi due anni terribili? Ecco direi che la frase più giusta l'abbiamo sentita nella riunione regionale che abbiamo fatto delle università riappropriamoci della nostra quotidianità della nostra vita nell'impegno nella partecipazione nella condivisione e nel trovarci in queste iniziative a condividere quella che è la nostra esperienza di vita e quella della nostra collettività quindi un'opportunità che va oltre i seminari le conferenze le attività extra didattiche saranno tante nuove interessanti e coinvolgenti soprattutto gradite perché rispondono a quelle che sono le richieste dei nostri iscritti quindi una opportunità per essere ancora presenti in un contesto nel quale vogliamo metterci alle spalle due tre anni di grandi criticità visto il riscontro positivo dell'esperienza dello scorso anno scolastico il liceo classico Manno di Alghero riprenderà da novembre i corsi serali di greco e latino per avvicinare una più ampia utenza alla conoscenza delle lingue e delle culture classiche gli incontri avranno cadenza settimanale per una durata di un'ora e mezza e si terranno presso la sede del liceo per iscriversi ad uno dei corsi o per richiedere ulteriori informazioni si potrà scrivere all'indirizzo mail iscrizioni greco latino alghero chiocciola gmail.com iscrizioni greco latino a h o quindi sta per alghero chiocciola gmail.com la domanda di iscrizione dovrà essere presentata sul modulo scaricabile dal sito www.liceoalguero.edu.it entro il 31 ottobre sarà richiesta una quota di iscrizione ed ora lo sport spostiamoci a Berlino dove si è tenuta la World Cup 2022 IPL una delle gare di sollevamento pesi più importante nel panorama mondiale e il 20 ottobre il sardo algherese Mirko Kalisai 42 anni ha aggiunto alla sua collezione di titoli ridatti altri 4 titoli mondiali nella specialità deadlift con un peso corporeo di 58 kg e mezzo Mirko Kalisai ha gareggiato nella categoria Open & Master Row non equipaggiato da un corpetto sollevando 205 e nelle categorie Open & Master Single Play 200 kg nella categoria Master porta a casa anche un world record di PL le potenzialità di Kalisai erano molto più alte nonostante un risultato stupefacente infatti un'alzata di 210 kg è stata data nulla lasciando un po' la mare in bocca a un perfezionista come lo stesso Mirko che ha affermato le gare sono così ogni gare è una storia a sé e non sempre vanno come vorremmo l'importante è stato portare a casa il massimo risultato anche perché Risa Lina è in pedana dopo 3 anni esatti a 42 anni non è semplice specialmente in un mondiale di altissimo livello la gara è stata disputata contro atleti di tutto il mondo che sono a corsia a Berlino attratti dall'importanza della federazione ricordiamo che Mirko Kalisai fondatore della Sardegna Sardegna Powerlifting nella sua carriera ha portato a casa 12 titoli mondiali in 11 anni il suo impegno agonistico si somma a quello di divulgatore della disciplina del sollevamento pesi che con la Sardegna Powerlifting una delle prime realtà nel territorio sardo che prepara atleti sardi proprio per competizioni di livello mondiale allora complimenti al nostro Mirko Kalisai è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale Ora il meteo per la giornata di domani grazie per averci seguito arrivederci arrivederci grazie a tutti